Quando vengono creati forzatamente, forzosamente gruppi di persone che vengono poi inserite in tipologie, in categoria a cui sono poi attribuiti quasi con forza ideologica degli stilemi di appartenenza delle divise, oramai è quasi troppo tardi, vuol dire che siamo alla vigilia del nazismo, siamo già all'interno del racismo, quello vero, quello profondo, quello articolato. L'apoteosi si verifica quando le categorie diventano due, cioè quando la società viene divisa in sani e malati. Bene, lì oramai il nazismo si è affermato perché decide chi è sano, come deve essere fatto chi è sano e tutti gli altri possono pure morire, possono pure schiattare. In fin dei conti mi sembra che sia un po' questa la base dell'ideologia, chiamiamola così, dei novelli Mengele.